bambini è così divertente fare ginnastica facciamola insieme con la mia canzone Bobadop Bob piegati e poi braccia al cielo l'esercizio del mattino piegati e poi braccia al cielo l'esercizio del mattino pieghiamoci a sinistra e ora giù a destra giù a sinistra e giù a destra l'esercizio del mattino giù a sinistra e giù a destra l'esercizio del mattino Riesci a toccarti i piedi? Adesso torna su e strizza gli occhi Tocca i piedi e strizza gli occhi l'esercizio del mattino Tocca i piedi e strizza gli occhi l'esercizio del mattino Salta hop 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 bada pop Salta hop hop bada pop Salta hop hop bada pop Scuoti i fianchi e ora porta le braccia su in alto Scuoti i fianchi e braccia su, l'esercizio del mattino Scuoti i fianchi e braccia su, l'esercizio del mattino Sdraiati e muovi le braccia e adesso allungati Muovi le braccia, allungati l'esercizio del mattino Muovi le braccia, allungati l'esercizio del mattino Salta hop 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 Salta hop 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 Salta hop 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 Batti le mani e fai un bel salto Batti le mani e fai un salto L'esercizio del mattino Batti le mani e fai un salto L'esercizio del mattino Salta hop 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 Salta hop 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 non è divertente fare ginnastica e fa anche tanto bene ci vediamo presto